Prima. Dopo. Vedete qualche differenza? Decisamente sì, perché la situazione già critica del Giaron, principale affluente del Muson, in zona Borgofaveri in pieno centro abitato di Mussolente, è a dir poco peggiorata. Lo scorso ottobre, ricorderete, avevamo seguito la petizione dei cittadini supportata dall'allora sindaco Cristiano Montagnier, in cui si chiedeva che il genio civile di Treviso e la regione si muovessero per la pulizia del corso d'acqua, trasformato, ben si vede dalle immagini, in un canneto, erbacce alte e totale degrado. A mesi di distanza nulla è cambiato e la sindaca Elena Bontorin torna all'attacco. Continuiamo a chiedere che venga pulito e sistemato, ma ancora non ci viene data nessuna risposta. Nulla si è mosso? Nulla si è mosso. Ecco, io chiedo davvero pubblicamente che non solo a Mussolente, ma in tutti i territori, perché siamo tutti presi nella stessa situazione, ci venga data una mano in più per tutelare i cittadini anche rispetto a condizioni di salute pubblica che diventano veramente complesse da gestire. Anche perché lei dice che se non riescono, se non possono muoversi loro, che almeno ci diano possibilità di muoverci noi. Certo, che ci autorizzino ad intervenire, che cambino effettivamente le cose. Se il genio civile non riesce a seguire questi canali d'acqua, ecco, sediamoci in un tavolo e capiamo come le cose possono cambiare.